Siamo detriti, relitti umani, trascinati da un fiume in piena che non conosce soste né destinazione, la nostra mente, le nostre azioni sono la causa, gli effetti invece, il nostro destino, ciò che deve accadere accadrà, qualunque cosa facciamo per evitare, ciò che deve accadere accadrà perché è già accaduto. Sono con me, ma io non ero con te, sono con me, ma io non sono con te, è vero con te, ma tu non eri con me. Viviamo nell'impermanenza, nell'incertezza della vita condizionata, ma ci ricorderemo di noi segretamente. Arriverà il giorno atteso a schiudere gli impediti passaggi, prepariamoci a dovere esistenti. L'impermanenza, nell'incertezza della vita condizionata, la nostra mente, è vero con te, sono con me. Eri con me, ma io non ero con te, sei con me, ma io non sono con te, Ero con te, ma tu non eri, non eri con me. Grazie a tutti. Andrea Torresani al basso, Giordano Colombo alla batteria, Davide Ferraro alla titana, il nostro ospite inglese Simon Tom. Andrea Torresani al basso, Giordano Colombo alla batteria, Davide Ferraro alla batteria, Davide Ferraro alla batteria, Davide Ferraro alla batteria, Davide Ferraro alla batteria. Ma dove è Turi? Perché per te sta? Turi? Madonna, ma dove sono Turi? E lui è nato in Finlandia, ma poi vivi in Sicilia, era un po' di anche questa persona. Bravo Turi! Non si vede, affacciati tu di qui con via faccia, non si può, non può uscire, ingabbiate. Andiamo avanti, ah no, Luca alle luci, va bene, ma siamo tanti. La vista è l'indetta. Voglio vederti danziani, come un piccolo del deserto, con campionati in testa, o come nei paginesi nei giorni di festa. Voglio vederti danziani, come dei fischi, un po' che ti riguarda. Voglio vederti danziani, come dei fischi, un po' che ti riguarda. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.